e benvenuti ragazzi a questo nuovissimo video oggi siamo su questa diciamo nuovissima serie che si lo so già l'hanno fatta tipo mezza youtube Italia anche tipo mezza già tutta e non so voglio vedere se questa serie mi piace raggiungiamo subito i 40 like e uscirà il prossimo episodio e che dire siamo su Outlast e ho paura la pila la fotocamera e si va a fare i filmini della comunione se è chiuso solo lui ok è un xbox one questo è un computer ma non è volendo potrei prendere con questi cosi e si va a comandare proprio ok entriamo nella casetta signore è chiuso come cazzo faccio se è chiuso ci trovano forse mi ci può andare a che signore no come cazzo vado oh un cancello per accorciarti ok salvataggio quindi stiamo proseguendo quello che oh una finestra quindi dobbiamo andare per di là ragazzi andiamo dai mamma mia stai con le musichette mamma mia stai una tensione incredibile io non posso giocare con la tensione non posso giocare con la tensione non posso giocare con la tensione ci ha fatto un beco e vediamo metterlo come da tempo non mi ha dato non posso giocare con le musiche così non volete signore mamma mamma come si mette così cambia tantissimo qualcuno c'è qualcuno vaffanculo jerry scotti vaffanculo bene andiamo direttamente ok si apre questa dove cazzo dobbiamo andare sai andiamo dove cazzo di paura mamma mia mamma mia corri vaffanculo ti è fermato il cuore ti è fermato che cazzo era c'era si proprio come il macello andiamo avanti quello stronzo che mi ha fatto mettere una cazzo di paura cazzo è vivo questo sai che sei bellissimo con quel bel melone no 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 c'era qualcuno io non vado io no 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 non vado io non c'è davvero non c'è no volendo devo dire qua lo so ok chiuso 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 a e sono morti no che cazzo c'è Gesù belli ma tu sei per la vista qua ma che cazzo oh ha fatto la meravigliщia via buonanze dio misericordio E' bellissimo Alziamoci signori Che mani sexy Guardateli Che cazzo è questo? Ti buttano da fuori Fuggi dal manicomio Accedi ai comandi I comandi sono qua Salve se i comandi Ma che posizione Sexy signori No basta Cos'è questo? Un bel rubiano C'era tanto che cazzo Quella è muo Cioè non è che si mi affaccia Si affaccia quello Si muove quello Oh cazzo Mica dobbiamo andare di là Io mica cos'ho tutto Dobbiamo andare di là Non ti muovere Bravo Bravo Si sta andando pure Allora Geriscotti Mi fate qualcosa? Allo piglio questo Oh si Basta Frate ma sei bellissimo Pure tu Che cazzo tieni in testa Quello sta disperando Frate ti in un mobiletto addosso Eh ti conviene spostarlo Il mio personaggio si posta a piangere Che cazzo sta a fa' Oh ecco Il mio portatore sta Dobbiamo ritornare dall'altra parte Ma dove? No ma perché? Ma cazzo Ma tu stavi Stavi Fatti dei tuoi Vaffanculo Sì 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 Ma vaffanculo C'è Dove dobbiamo andare di qua no? Oh Mamma mia Io non ci vado Leo No 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 io non vado Leo La carta forse Sì infatti Apriamo Tutto fiero O se compiù O le diventano Youtuber mi aspettiamo che è successo nel frattempo il cattone dell'inizio nasconditi un po' che cazzo dobbiamo non si può guardare carcellino cazzo cazzo no che culo dove va? va a sinistra va a sinistra prendo dove manda a destra sb bravo a questo punto dovremmo andare giù chiudiamo la porta per sicuro se sennò forse lì non viene andiamo per di qua signorio pure un po' di pacu per noi che cazzo è sta musica ok ok se vediamo la stanza chi è? chi è? controlliamo bene a che c'è guarda 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 qua penso proprio che dovremmo attivare questa cosa ci conviene fare una corsa incredibile e dove non c'è nessuno? ma non c'è un cazzo di nessuno cazzo ma come passiamo? ho paura io direi di fermarci qui e proseguire il prossimo episodio come ho detto raggiungiamo almeno 40 mi piace per il prossimo episodio e che devi mettere subito mi piace a questo video e se non siete ancora iscritti iscrivetevi noi ci becchiamo al prossimo video e ciao ragazzi